Il mistero continua ad avvolgere le vicende legate al Bayesian, l'imbarcazione naufragata a largo di Porticello, vicino a Palermo. Alcuni nodi della questione restano in effetti difficili da sciogliere e, giorno dopo giorno, emergono nuovi dettagli che complicano il quadro del caso, ormai arrivato all'attenzione dei media internazionali. Dalla nave che non sarebbe dovuta affondare, ai protocolli non rispettati, all'assicurazione stellare, ecco tutto ciò che non torna sul disastro che ha coinvolto Mike Lynch e i suoi ospiti in Sicilia. I primi dubbi che hanno intrigato il web riguardano la natura stessa della barca, un veliero resistente, che non avrebbe dovuto essere rovesciato dalla burrasca. In merito si è espresso anche l'esperto Stuart Campbell, capo dell'agenzia stampa Bot International Media. Mai sentito parlare di un'imbarcazione di 56 metri che sia stata rovesciata e affondata da un evento come quello accaduto lo scorso 19 agosto, commenta Campbell alla BBC. Con i suoi 56 metri di lunghezza, è un'imbarcazione estremamente confortevole, super lussuosa, con tutte le comodità che ci si può aspettare. Una bellissima imbarcazione fatta per viaggiare in modo estremamente confortevole sugli oceani. Una barca transoceanica. Estremamente affidabile. Avrebbe dovuto essere in grado di resistere alle intemperie? Sì, assolutamente, sono progettate per questo. Per resistere a condizioni meteorologiche estreme. Questo evento atmosferico in particolare è stato violento, improvviso e non previsto. Altrimenti il capitano non avrebbe mai messo la barca a mare in quella baia se fosse stato previsto un tempo estremo. Era prevista una leggera brezza a largo, questo è perché c'era un'allerta meteo in quella zona. Quindi questo evento improvviso, immediato e molto violento ha avuto conseguenze catastrofiche. Altro dato che ha confuso l'opinione pubblica in merito al disastro sono le testimonianze rilasciate sul capitano James Catfield, neozelandese di 51 anni, scampato a un destino peggiore con altri 14 passeggeri. Secondo quanto riportato dal fratello di lui, Mark, ai media in Nuova Zelanda, James è un comandante esperto, che ha lavorato per tutta la vita a bordo di grandi imbarcazioni e che conosce bene il Mediterraneo. Inoltre, da ragazzo aveva anche gareggiato nelle competizioni di vela, un abile marinaio, dunque, che sarebbe stato colto di sorpresa dalla tromba d'aria. Alla domanda su come mai sulla scialuppa ci fosse tutto l'equipaggio, fatta eccezione per il cuoco che poi è stato trovato morto poche ore dopo, quando di solito l'equipaggio aiuta i passeggeri in difficoltà, il comandante Borner, alla guida del veliero che ha soccorso i superstiti, le ha risposto, non voglio difendere l'equipaggio ma in quei momenti era davvero complicato scendere giù per portare su altri passeggeri. La barca stava affondando, in pochi minuti non c'era più. Il veliero olandese accanto. Un altro dettaglio rilevante riguarda poi proprio l'imbarcazione che ha soccorso i superstiti, il Sir Robert che, pur essendo arrivato tempestivamente, non ha subito le onde come il suo vicino Bayesian. Un fatto, questo, alquanto strano, considerando l'entità della tempesta e il fatto che i velieri dovevano trovarsi a pochi metri di distanza. Karsten Borner, il capitano del Sir Robert BP ha raccontato come anche la sua barca fosse stata colpita da forti raffiche di vento, mentre la sua squadra lavorava per stabilizzarla e manovrarla per evitare di colpire il vicino yacht. Poi, dopo che la tempesta era finita, abbiamo notato che la nave dietro di noi era scomparsa, ha aggiunto l'uomo, che ora è ripartito per mare sto andando in Sardegna, ha concluso. Le bugie del comandante. Karsten Borner, tuttavia, ha rilasciato anche dichiarazioni contrastanti alla procura di termini merese. Inizialmente, secondo quanto riportato, aveva detto che l'albero del Bayesian si era spezzato davanti ai suoi occhi. Tuttavia, dai primi risultati delle ispezioni eseguite dai sommozzatori dei vigili del fuoco e della guardia i sub, arrivati fino a 50 metri di profondità dove poggia lo scafo del Bayesian, si è constatato che lo scafo è integro e che l'albero maestro non ha lesioni, almeno per i primi 50 metri. Perché questa contraddizione? Forse sono state capito male, ha detto, l'albero era integro quando la barca è affondata. Non so se poi si è rotto durante l'affondamento, ma mentre andava giù era perfettamente integro. È successo tutto in pochissimi minuti. La violazione dei protocolli. Un altro mistero riguarda poi la ragione dell'apertura dei portelli nella burrasca, quando i protocolli li vorrebbero chiusi in caso di tempesta. Le previsioni meteo indicavano possibili venti forti, ma non era prevista alcuna burrasca, che è ciò che obbliga i responsabili a bordo ad alzare l'allerta e a chiudere tutto, e per questo motivo, probabilmente, i portelli di ingresso alla cabina e gli oblò erano aperti, come avviene spesso quando si resta ancorati in rada per la notte. Questa circostanza avrebbe da un lato accelerato l'inabissamento del Bayesian, dall'altro, paradossalmente, potrebbe aver salvato i 15 superstiti, che sono così riusciti ad uscire tempestivamente. Gli esperti di yachting hanno ipotizzato che, essendo i portelli aperti, il Bayesian avrebbe potuto riempirsi d'acqua rapidamente e affondare. In generale, la procura sta indagando sulla presunta catena di errori umani che avrebbe provocato l'affondamento del veliero. Importanti rivelazioni potrebbero venire dalle analisi sul relitto e da nuove dichiarazioni di Catfield. Giallo sull'assicurazione. Si prospettano, alla luce di tutti i misteri che avvolgono la questione, una serie di future cause per risarcimento danni. Secondo il tabloid inglese The Sun, infatti, l'assicurazione del veliero ammontava ben 2 miliardi di dollari, e i suoi clienti, riporta The Flower, potranno scegliere tra due tipi di coperture, il cosiddetto scafo e machine, che poi sarebbe la casco, o in alternativa a protection e indemnity che risarcisce gli eventuali danni. Tuttavia, secondo gli esperti, è la prima soluzione quella scelta di solito dai clienti in questi casi. Grandi somme di denaro, insomma, potrebbero essere restituite ad alcuni degli elementi coinvolti. Il processo a Lynch e al vice, morto una settimana prima. Mike Lynch si trovava sull'imbarcazione, a quanto pare, proprio per festeggiare la fine dei suoi guai legali, condivisi con il vice Steven Chamberlain, 52enne ex top manager della multinazionale informatica Autonomy e la società di software creata da Lynch. I due erano stati coimputati in un processo per frode, 15 i capi d'accusa, tra cui quello di aver gonfiato il prezzo del gruppo Autonomy prima della vendita all'Ewlett Packard nel 2011, conclusa per 11 miliardi di dollari. A giugno erano stati finalmente giudicati innocenti ed erano pronti a voltare pagina. Anche Chamberlain, per un'assurda coincidenza, non ha potuto però festeggiare il nuovo inizio. È stato infatti investito da un'auto nei pressi di Cambridge, una settimana prima dell'incidente del Bayesian. Lynch voleva vendere la barca. Poi un'ultima coincidenza fatale. Il Taikon britannico era in realtà intenzionato a vendere il veliero, ma ha cambiato idea dopo la sua assoluzione negli USA. Così riporta il sito del Daily Telegraph, citando fonti del settore nautico, secondo cui il Magnate aveva messo sul mercato il Superiact a marzo di quest'anno per poi cambiare idea solo il mese scorso. L'intenzione era quindi trascorrere l'estate a bordo della barca e poi rivedere la decisione di venderla in autunno. Un ripensamento, quello di Lynch, che si è rivelato fatale.